ciao sono il dottor max in questo video ti spiego cosa causa la sinusite acuta la sinusite acuta è un'infiammazione delle cavità paranasali che sono piccole cavità d'aria situate nella testa intorno al naso e agli occhi questa condizione può essere causata da diversi fattori tra cui infezioni virali la causa più comune della sinusite acuta è un'infezione virale spesso associata a un raffreddore comune o un influenza i virus respiratori come il rinovirus o il virus dell'influenza possono infettare le mucose delle cavità nasali e delle vie respiratorie superiori causando l'infiammazione delle cavità paranasali infezioni batteriche in alcuni casi l'infezione delle cavità paranasali può essere causata da batteri soprattutto quando i sintomi persistono per più di 10 14 giorni o si aggrava dopo un iniziale miglioramento cosiddetta sinusite batterica secondaria i batteri più comuni associati alla sinusite batterica includono streptococcus pneumoniae e emofilus influenzae allergie le allergie stagionali o perenni possono causare un'infiammazione cronica delle mucose nasali che può aumentare il rischio di sviluppare sinusite acuta irritanti ambientali l'esposizione prolungata inquinanti atmosferici fumo di tabacco vapori chimici o altri irritanti ambientali può irritare le mucose nasali e contribuire all'infiammazione anomalie anatomiche deviazioni del setto nasale o altre anomalie anatomiche delle vie nasali possono ostacolare il normale drenaggio dei semi paranasali predisponendo alla sinusite acuta comportamenti dannosi l'uso eccessivo di decongestionanti nasali spray noto come rinite medicamentosa può alla lunga causare infiammazione delle mucose nasali e contribuire alla sinusite acuta immunità ridotta persone con un sistema immunitario compromesso o patologie che indeboliscono le difese del corpo come lì barra isola chemioterapia possono essere più suscettibili alle infezioni delle vie respiratorie superiori inclusa la sinusite acuta la sinusite acuta è caratterizzata da sintomi come congestione nasale dolore oppressione facciale secrezione nasale colorata spesso giallo verde mal di testa febbre tosse e malessere generale la gestione della sinusite acuta può coinvolgere l'uso di farmaci come decongestionanti corticosteroidi nasali analgesici per il dolore e antibiotici se l'infezione è batterica è importante consultare un medico per la diagnosi e la gestione della sinusite acuta in quanto questa condizione può essere simile ad altre condizioni mediche e richiedere un trattamento specifico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata